Quanti consigli, veramente tanti in questa decima edizione di Pillole di Natale. Adesso le nostre telecamere si sono trasferite invece a Padula, Padula Scalo, dove Happy Elegance Casa ci aspetta perché abbiamo parlato di consigli sull'abbigliamento, su cosa andremo a mangiare, sulla tavola delle nostre festività adesso invece ci dedichiamo ai regali per la vostra casa. Entrate con me. A fare gli onori di casa qui in Via Nazionale a Padula Scalo c'è Carmen. Ciao Carmen, come stai? Bene, grazie. Parlavamo di oggetti per la casa e non solo, allora dici tutto quello che hai. Allora, come idea regalo, un servizio di bicchieri, un servizio di posate a partire da pochissimi prezzi, svuotatasche, ceneriere, centrotavola, orologi, quadri, alzatine. Tantissimi articoli che possono anche essere adatti a questo periodo di festa ma anche 365 giorni all'anno. Nello specifico per Natale qualche angioletto un po' più particolare, non lo so, qualche alberello. Lista nozze è possibile da te? Certo, e non solo, anche bomboniere, confettate, caramellate, intiti di partecipazione per tutte le cerimonie. Diciamo dal 2015 saremo ancora più muniti di questi servizi, ecco. Bene, allora Carmen ha già dato l'indirizzo su quello che potrete trovare qui. Ovviamente il suo consiglio non mancherà, vi aspetta dove? A Padula Scalo in Via Nazionale 117. Adesso auguri a tutti. Auguri a tutti e buon anno.